L'Officina degli Anacoleti debutta a Teatro Civico. Alessandro Castigliano, cosa vuol dire per voi? Per noi vuol dire molto. Il nostro è un ritorno, è un ritorno che abbiamo cercato di caldeggiare attraverso una ricerca di qualità. Siamo riusciti a farlo con uno spettacolo che si chiama Penelope, che è tratto liberamente da un romanzo di Margaret Atwood intitolato Il Canto di Penelope. Il Canto di Penelope racconta la storia di una donna assediata. Così come Troia era assediata, lei è assediata nella sua reggia, assediata dagli uomini che desiderano appropriarsi del suo regno e ha come unico conforto le sue ancelle. Lo spettacolo è interpretato da Cristina Pagliolico, da Alice Monetti e da Francesca Fiaccola, che sono veramente straordinarie, molto vive, molto prensili, molto piene di sentimento. Mi piace molto l'energia che portano in scena, mi piace molto perché ho potuto usare questa energia a favore di una visionarietà che ho raggiunto solo attraverso questo spettacolo. E quindi sono orgoglioso di poterlo mostrare ai vercellesi grazie all'interessamento della fondazione e all'interessamento ovviamente del governo della città. Grazie.